Quindi questo tema delle lingue e dell'educazione motoria si scontra con una serie di problemi che adesso vi vado rapidamente a definire con le ultime due questioni. L'assunzione dei 100.000 precari viene alla fine di questo percorso, non è l'inizio di questo percorso. Questa è la foto della scuola che immaginiamo. Abbiamo necessità quindi, sì perché questa c'è, di sanare una clamorosa ferita che è stata la ferita di vent'anni di promesse, qualcosa di più in realtà, non mantenuta nei confronti del corpo docente, si è consentito alle insegnanti e agli insegnanti di acquisire il titolo abilitativo e poi non si è detto a costoro che potevano entrare in cattedra, si è formata una generazione cioè di insegnanti precari che in qualche modo incarnano la dimostrazione di scarsa attenzione della politica nei confronti di chi? Nei confronti di chi dovrebbe avere prestigio sociale e ruolo andando a insegnare. Come faccio a dire che scommetto sui professori se poi li lascio accandire frustrati in un angolo? In una graduatoria? Che dico di essere esaurimento ma che poi non esaurisco mai? In questo senso sappiamo che il nostro governo ha il compito di affidare al Parlamento la possibilità di fare delle scelte. Noi abbiamo fatto le nostre scelte, inseriamo in questa categoria i soggetti che stanno dentro le graduatorie dell'esaurimento perché hanno assunto a nostro giudizio un titolo all'assunzione. Lo Stato gli ha detto vi assumo, non gli ha detto quando, ma gli ha detto vi assumo. E quindi lo Stato mantiene il proprio impegno.